Inizia oggi Zona Verde, il nuovo format di zona locale dedicato alle tematiche ambientali. Abbiamo deciso di dedicare questo primo appuntamento al Parco Nazionale della Costa Tiatina, il grande assente della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo. Ospite della trasmissione è Lino Salvatorelli, presidente dell'Arci, uno dei protagonisti delle battaglie storiche per l'ambiente. Con Salvatorelli ripercorreremo il lungo e tortuoso ITER, iniziato nel 2001 con la legge istitutiva del Parco Nazionale, impugnata dalla regione Abruzzo. Allora, sono passati 23 anni dalla legge istitutiva del Parco Nazionale della Costa Tiatina. Dove si è bloccato l'ITER? Guarda, in questo momento il parco si trova al Ministero dell'Ambiente, ma non per volontà del Ministero dell'Ambiente, ma perché dopo che era stata fatta la perimetrazione dal commissario delegato del Ministero dell'Ambiente, che era l'architetto De Dominicis, ex presidente della provincia di Pescara, una volta riconsegnato il lavoro, in Consiglio regionale, grazie a un emendamento presentato da una forza della maggioranza di allora di D'Alfonso e presentato dal consigliere ex consigliere regionale Mario Olivieri, fu bloccato l'istituzione in quanto in questo emendamento si diceva che questa perimetrazione, che noi del movimento avevamo chiamato perimetrazione sottiletta, nel senso che in effetti era veramente poca cosa rispetto all'inizio, diceva che vi erano incluse delle aree produttive di tipo artigianale e di tipo industriale. Magari qualche cosina c'era, però sarebbe bastato fare un emendamento dove si chiedeva di depennare quelle aree e non un emendamento che in qualche maniera ha messo in blocco tutta la legge istitutiva. Da quel momento è rimasto lì al Ministero, mai più nessuno è andato a cercare di rimuovere questa situazione di stallo in pratica. Nonostante le associazioni però abbiano più volte sollecitato? Sì, noi come associazioni, soprattutto come Costituente, abbiamo continuato a sollecitare, abbiamo continuato a cercare rapporti, a volte all'interno del Partito Democratico, a volte all'interno del Movimento 5 Stelle, ogni qualvolta c'era un eletto che veniva dall'Abruzzo, non siamo andati a correre il centrodestra perché hanno sempre chiaramente detto di non volere il parco. Io mi è capitato in altre occasioni di dire che sul parco abbiamo avuto due atteggiamenti, centrodestra sempre contrario e il centrosinistra che ha fatto finta di volerlo, a parte qualche elemento che si è ben speso, per il resto poi nel momento della decisione politica anche il centrosinistra ha fatto cilecca. Ma spieghiamo ai nostri ascoltatori quali sono i vantaggi di un parco nazionale d'Abruzzo sul nostro territorio? Ma guarda, il vantaggio sta già nel nome, nel senso che un parco nazionale è un qualcosa di interesse nazionale e si dà questa valenza nazionale a qualcosa che ha le caratteristiche e la fattibilità ambientale che è provata dal fatto che nel perimetro ci sono ben nove riserve regionali. Quindi voglio dire, nell'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatino non si trattava tanto di andare a ribadire la valenza naturalistica che era già stata accalorata dall'istituzione di ben nove riserve senza considerare la presenza di, mi sembra, o sei o sette SIC, quindi la valenza naturalistica è già accalorata. Il vantaggio era che quella che è una tutela di tipo regionale diventava una tutela di tipo nazionale con tutti i vantaggi che ne conseguono. Anche vantaggi economici? Guarda, la prima cosa che mi viene da dire è che in questi anni di mancata istituzione si sono persi 10 milioni di euro, che erano la quota che ogni anno era a disposizione del Parco Nazionale della Costa Teatina. Altro vantaggio sarebbe stato, e questo è un grande vantaggio, che la Via Verde non sarebbe stata una struttura di pertinenza, diciamo, provinciale senza sapere in effetti chi la gestirà, ma sarebbe stata una struttura di valenza nazionale e con tutto quello che comporta essere una struttura di livello nazionale in termini di finanziamenti, di manutenzione, di gestione e di quant'altro in sostanza. Ma sarebbe riuscito anche a frenare alcuni appetiti speculativi? Ma guarda, sicuramente avrebbe costretto i comuni a fare i piani regolatori con una VAS, una valutazione ambientale strategica, più adeguata rispetto a un parco nazionale, il che non vuol dire che avrebbe bloccato, ma attraverso una zonizzazione, intanto si faceva salvo quelle che sono le aree più pregiate, per il resto magari si andava verso un'urbanistica un po' più regolare, anche più bella, più sostenibile, ma anche con caratteristiche uniforme, cioè voglio dire, noi lungo la nostra costa vediamo colori di ogni tipo, materiali di ogni tipo, ristrutturazioni modello Hollywood, cioè voglio dire, un parco nazionale permette di fare un piano unico, ma già se vogliamo pensare alle segnaletiche, a come si mettono i numeri sulle case, ma voglio dire, non bisogna nemmeno andare molto lontani, basta andare al parco nazionale del Gargano per vedere come in effetti da quando c'è il parco è tutto molto più carino, molto più uniforme rispetto al passato, e non è che non si è più costruito, si è costruito, ma si è costruito con più raziocinio, facendo però salvo quelle zone che si erano salvati dalla speculazione precedente. Prima l'hai un po' accennato, ma in sostanza chi ha remato veramente contro il parco della costa tiatina? Ma guarda, non è un mistero per nessuno che il centrodestra non l'ha mai voluto, nel senso che se non ci fosse stato il ricorso all'immediato, appena dopo l'istituzione, il ricorso al TAR, quello avrebbe seguito una procedura che nel giro di 4-5 anni massimo si arrivava all'istituzione effettiva, si faceva la perimetrazione e partiva, quindi non è potuto partire perché si è dovuto aspettare diversi anni per la risposta al TAR. La risposta al TAR fu negativa per i ricorrenti, non contenti, fece ricorso anche al Consiglio di Stato e anche in quell'occasione fu ribadita che l'istituzione di un parco nazionale non può essere in qualche maniera contrastata alla Regione in quanto gli si è data a questo territorio una valenza nazionale di cui non risponde più la Regione in sostanza. Poi la Regione avrebbe partecipato al Consiglio di Amministrazione con i portatori di interesse e tutte avrebbe detto la sua, però di per sé la Regione non poteva abolire la legge istitutiva. Quindi sicuramente il centrodestra non l'ha mai nascosto. Come dicevo prima, nel centrosinistra ci sono stati dei franchi tiratori che in qualche maniera hanno avuto partita vinta rispetto a quelle persone che magari il parco lo volevano. In modo particolare sicuramente l'assessore Caramani che era sotto il vicepresidente della Regione che dell'epoca di Mazzocco l'hanno voluta ma anche per dirti il senatore Fina che in quel momento era segretario del Ministro dell'Ambiente Orlando si spese in maniera forte per arrivarci. Però poi quell'emendamento bloccò tutto. complice anche alla caduta del governo Letta in sostanza. Ah, si può riprendere il discorso? È fattibile? Allora, dal punto di vista tecnico è fattibile. Anzi, al Ministero varie volte che ho parlato con dirigenti vorrebbero portarla al termine perché è stato un lavoro fatto anche al Ministero da alcuni dirigenti e funzionari che vorrebbero vedere questa cosa andare a buon fine. Purtroppo, in qualche maniera ci vuole una decisione politica in Regione che riprende l'emendamento oppure d'imperio teoricamente il Ministro dell'Ambiente potrebbe anche scavalcare la Regione dal punto di vista però considerando anche la filiera politica di questo momento ho i miei dubbi che qualcuno vada a riprendere. Penso che le opposizioni se veramente vogliono il parco possano cominciare a riprenderlo soprattutto in Consiglio regionale perché ogni tanto si legge qualche articolo di qualche esponente di centro-sinistra che rilancia il parco ma intanto riservirebbe qualcosa di ufficiale un emendamento in Consiglio regionale noi con tutti i materiali siamo a disposizione un emendamento che dal punto di vista istituzionale riapra la discussione sappiamo che non vuol dire che dopo domani si fa però in questo momento è proprio silenzio assoluto Ma questa potrebbe essere l'occasione per rilanciare un appello? Potrebbe essere l'occasione per rilanciare un appello sì invito qualche consigliere regionale a questo punto perché anche di maggioranza perché no chiunque voglia in qualche maniera spendersi affinché il parco arrivi alla sua istituzione reale a rilanciare a portare un emendamento in Consiglio regionale che in qualche maniera si cominci di nuovo a vedere se questa operazione si vuole portare a termine in sostanza a a a a a ? Grazie per la visione!